buongiorno a tutti vi presento come realizzare questo bellissimo sciarpone che può essere portato sia così sopra la vostra giacca o all'interno di casa giusto per scadarsi le spalle sia proprio portato così la giacca come vedete ho usato tantissimi colori diversi ha fatto delle piccole per linee sotto solo sulla parte inferiore ed è veramente comodissima queste quali essere non ho usato l'anno perché io non sopporto la lama ma in lana ci sono tantissimi colori spero che questo video vi piaccia e buon lavoro per realizzare questo video ho usato tutti questi colori in realtà questi tre gomitoli li ho iniziati ve li faccio vedere ma non li ho finiti di che sarebbero questi quelli nuovi vedete cioè in realtà ho usato forse un po di più della metà del gomitolo questi sono dalla dmc sono quelli glitterati e sono dei gomitoli da 50 grammi questo lago da usare il 4 è usato in quattro e mezzo in realtà usato un quattro e mezzo non si vede molto ma comunque questo è e come vedete qua ce ne resta un po di meno della metà poi gli altri questi qui questi colori qui centrali sono sempre della dmc e però sono gomitoli da 100 grammi questi invece e questo è leggermente più spesso si usa sempre lago da 4 ma leggermente più spesso di quello glitterato comunque sia è sempre della stessa collezione e poi usato altri questi due colori che sono un po più forti e questo come un fucsia questo un po un blu bello acceso e questi invece vengono da un negozio qua in svizzera della mano comunque potete usare per i colori che voi scegliete come vi ho detto ho usato un uncinetto da quattro e mezzo e un ago se lo usate alla fine un ago di questo genere quelli di plastica per chiudere il lavoro come notate io la sciarpa l'ho già finita e a me resta un sacco di gomitoli anche che queste erano più piccoline queste erano da 100 quindi queste da 50 mi è restato veramente un casino di materiale quindi se volete farlo di un solo colore o di due colori io penso che due gomitoli da 100 grammi sono più che sufficienti allora per arrivare quindi questo vi faccio vedere come ho iniziato quello che ho fatto che ho misurato il mio giro di spalle sapendo che questa è la parte bassa poi andremo a creare e svilupperemo in altezza così quindi il nostro sciarlo il nostro sciarpone ma per fare questo che se non lo tiro troppo la circonferenza è di circa 105 100 100 100 105 delle mie spalle io ho fatto 150 catenelle e poi faccio vedere come ho realizzato questo che in realtà sono 150 catenelle poi aggiungo insieme il filo una catenella e poi faccio 150 maglie basse adesso lo faccio vedere in piccolo prima di continuare quindi qua abbiamo finito il colore per questo momento quindi per andare a cambiare colore taglio il filo quindi inizio con il nuovo vi farò vedere dopo intanto vi faccio vedere come ho realizzato questo io ho iniziato con il blu potete farlo con qualsiasi colore e le palle che le piccole palline che vedete sulla basso della sciarpa andremo a farle alla fine una volta che la sciarpa è terminata ma questo qua se vedete bellissimo perché un po di lurex io alternerò con e senza lurex quindi qua vi faccio vedere in un formato più piccolo e facciamo solo 15 catenelle quindi vado a iniziare il mio lavoro mi si hanno dato scusatemi riprendo quindi prima ok perfetto quindi vado a fare 15 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 e 15 voi dovete farne circa 150 poi dipende veramente di ognuna della grandezza che volete farla dipende la grandezza del del filo e dell'uncinetto che è stato usando prova da chiuderlo come dicevo nella prima catenella infilo all'interno prendo il filo e lo tiro fuori e ora ecco avete chiuso un giro quando è più lungo dovete fare attenzione non ingarbogliare ma comunque sia fuori questo una catenella e ora andate a fare 15 maglie basse in ogni catenella sottostante che quindi con questo è un lavoro facilissimo perché mettete infilate nella catenella prendete il filo e tirate ovvero che con questo colore non si vede benissimo ma fate così e arrivate quindi fino ai vostri 150 e le vostre 150 maglie basse e in realtà poi è così che l'ho fatta io la prima la prima parte per veramente facilissima e quello che voi dovete fare per accorgervi di non sbagliare quello che spiego fra poco molto finito in giro che quando il filo è molto più lungo e lì che diventa più complicato in realtà perché vi si può girare tutto quindi sono arrivata alle mie 15 catenelle e quello che dovete fare e fare questo lavoro qua di vedere che coinvaccia bene senza che all'interno si giri e si reggiri e poi vi fa un modo dovete bello metterlo liscio al piatto sul tavolo arrivate qua andate nella prima maglia che avete fatto e fate una maglia bassissima ecco iniziate il lavoro con il nuovo colore o se terrete questo continuate con questo quindi andate a tagliare il vostro filo e da qua è andata ad aggiungere quello nuovo quindi ora vi faccio vedere una volta che andiamo a cambiare il colore e quindi cambia anche il disegno perché questo vale solo per la prima linea mi sono resa conto di aver dimenticato un passaggio come fare una volta che cambiate il colore quindi quindi dal blu a rosa come creare i tre triangoli quindi cambio il colore faccio tre catenelle e poi nello stesso punto dove ho creato le tre catenelle faccio altre due maglie alte salto due due maglie sottostanti e nella terza creo tre maglie alte salto di nuovo due maglie sottostanti e nella terza altre tre maglie è così fino alla fine del giro che vi faccio vedere ora ho finito la mia linea quasi devo andare a chiudere qua per fare i cambi colore vorrei provare per evitare di fare troppi nodini che sono da nascondere a fare questo quindi mi ci vogliono circa scusate che si muove la telecamera circa 10 centimetri per fare l'ultima maglia quindi quello che faccio che va con vado a 15 centimetri mi segno di centina che vado a farmi un nodino proprio vediamo se mi viene questi centimetri sono circa per questo tipo di maglia alta c'è della maglia alta per questo tipo di quindi sono a 10 centimetri vado a chiudere il nodo non lo taglio perché non sono sicura andiamo a vedere come esce quindi ho fatto due maglie alte vedete va a fare l'ultima ci siamo circa e poi vado a chiudere qua quindi mi è avvenuta bene posso ho visto che va bene quindi posso ora tagliare in più e vado qui la prima catenella sopra le 3 catenelle che ho fatto prima prendo il filo e lo chiudo e esce perfetto ora da qua e poi quello che ripeterete ogni volta è questo quindi 3 catenelle e nel in questo buco qua vado a fare mi va a nascondere anche un po tutti quei nodini un'altra maglia alta non si vede più niente ha nascosto tutto ora qua vado qui all'interno non devo più contare vado all'interno di ogni buco diciamo che si è creato vado a fare le mie tre maglie alte e continuo la prossima senza fare catenella senza niente continuo così la seconda la terza maglia alta e mi viene fuori questo lavoro qua bello stretto che si vado a fare una catenella qui parte che dovrò mettere quindi può sotto lasciare una maglia in più però qua mi viene molto più aperta ed è meno carina su questo tipo di scelta vengono troppi buchi buchi troppo larghi quindi ho preferito fare questo lavoro qua e poi ha continuato alternati colori fate proprio come vi fa io quello cosciente che questo filo qui e questo qua sono più o meno dello stesso spessore questa non è lana questo mi sembra che tutta acrilica e meno i colori di così questo è acrilico se il colore blu turchese qua che il colore rosa sono acrilici perché in realtà non sopporto molto la lana ma se voi avete dei fili di lana il lavoro ancora più bella la sciarpa verrà molto più pregiata quindi fate come volete voi sviluppate quanto volete vi faccio vedere io come lo sviluppate vi faccio vedere le palline qua sotto come vengono a piazzarle ecco il risultato quindi qui dove abbiamo iniziato e il resto a me mi viene fuori una misura di 58 cm quindi ho fatto un bel po di linee e qua quindi è 62 x 2 quindi 124 in totale di circonferenza perché è un cerchio io ho nascosto a parte qui è la prima volta per il resto ho fatto sempre la sole 10 11 centimetri tagliavo il filo eccetera come vi ho fatto vedere per poter fare il cambio colore e come notate viene fatto in questa colonna qua in questa linea qui ma non si vede per anche io adesso perché ve lo faccio notare si nota qua per esempio un puntino poi qua magari un altro ma è proprio piccolezze di questa è la sciarpa finita quindi ho detto 58 cm e adesso andiamo a fare ripalline sotto allora quello che ho fatto è già passato il filo esattamente dove c'era quello quindi sono alla fine del nostro lavoro sulla parte bassa da dove abbiamo iniziato a realtà la nostra shop ne ho fatto un nodo ora vado dentro a tirarmi fuori così e poi d'acqua vado a riprendere le maglie che abbiamo fatto qua che vado a riprendere tutta una una e ogni tre maglie faccio una una vado quindi facciamo delle maglie bassissime di nuovo 1 2 3 punti di riferimento non abbiamo bisogno perché è questo dopo faccio una due tre catenelle prendo il filo nella prima ok qui qui faccio una maglia alta ma non la chiudo seconda volta che non chiudo terza maglia alta e ora vado a chiudere tutto stringo bene se faccio 1 2 e 3 riprendo il filo e vado alla base che ho chiuso il lavoro di prima e faccio di nuovo la stessa cosa prima maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa e terza maglia alta non chiusa e chiudo il lavoro e stringo abbiamo questo in questa cosa quindi noi quello facciamo lo chiediamo in due ritorniamo qui nel primo dove c'è la base e faccio una maglia scusate e faccio una maglia bassissima e qui ho creato il primo balloncino prima pallina mi è uscito fuori il filo vediamo se riesco a recuperarlo scusatemi mi è scappato fuori il filo quindi ritorno qui sono maglia bassino maglia bassissima e la prima è fatta ora vado a fare di nuovo tre maglie basse quindi non è qui giustamente 1 2 3 alla terza 1 2 3 catenelle riprendono rivendo qui alla base una maglia alta non chiusa 2 maglie alte non chiuse terza maglietta non chiusa chiudo il mio lavoro lo stringo di nuovo 1 2 3 qui la base una maglia alta non chiusa secondo maglia alta chiusa e la terza maglia alta chiudiamo il lavoro e ritorniamo alla base con una maglia bassissima e questa è la seconda io le faccio ogni 3 catenelle ogni 3 maglie scusate basse basse qua sotto potete farlo ogni 2 ogni 2 forse sono troppo vicino ogni 4 per farlo distante ogni 5 come volete voi a me piaceva questo formato qua ogni 3 e questo lo contiene tutto il giro se qua poi vedete che magari siete a una maglia 2 maglie il senso che qua forse vi restano 4 maglie cercate non fa niente in realtà oppure ne fate 1 ogni 2 qui alla fine per poter fare giro e non che non si noti niente comunque questa è la sciarpa è stupenda avete visto indossata ditemi cosa ne pensate non vi dimenticate di seguire la mia pagina di mettere un like se questo video vi piace e mi raccomando cioè potete farlo veramente di tutti i colori che volete un solo colore tutti questi colori fare tutti sui beige sui verdi sui blu cioè veramente ognuno si può sbizzarrire è veramente semplice un po lungo perché ho preso comunque un filo abbastanza fino ma comunque sia è veramente facilissimo anche per i principianti quindi spero ancora questo video vi sia piaciuto e al prossimo grazie